La nostra clinica dentale dottori Simon di Ivrea nasce dall'esperienza collaudata negli anni di noi due fratelli dentisti. Nella nostra struttura si utilizzano sempre tecnologie di ultima generazione e materiali di ottima qualità per garantire a tutti i pazienti un risultato eccellente. Al centro del lavoro quotidiano di tutto lo staff della nostra clinica dentale è posto il paziente che viene coccolato e viene seguito in ogni passaggio del lavoro e delle cure dentali sempre rigorosamente senza dolore. Ad ogni paziente che giunge all'osservazione dello nostro staff all'interno della clinica dentale che vuole ricostituire il proprio sorriso e migliorarlo viene proposta una serie di trattamenti dentali e ortodontici per ripristinare l'estetica e la funzionalità del sorriso. Per ridare un sorriso a pazienti con denti gravemente compromessi o senza più denti abbiamo messo a punto la tecnica All on 4. Siamo un centro certificato dell'implantologia dentale Nobel Biocare che permette con la tecnica originale All on 4 di ridare in poche ore un sorriso a pazienti che purtroppo non l'avevano più. La nostra clinica dentale è un centro di eccellenza dell'apparecchio invisibile o Invisalign che permette di raddrizzare i denti in modo assolutamente comodo, indolore ed estetico attraverso l'utilizzo di mascherine trasparenti che vengono indossate tutti i giorni, tutto il giorno, potendo spostare in questo modo molto agivolmente i denti, senza che nessuno si ne accorga, senza che il paziente abbia assolutamente alcun fastidio, per un risultato finale eccellente. La tecnica All on 4 prevede l'inserimento di 4 o 6 impianti in un'unica seduta con anestesia locale senza dolore e la consegna di un monofatto protesico fisso in modo tale da ridare un sorriso al paziente fisso nell'arco di poche ore. Questo dà ai pazienti un comfort eccezionale e una soddisfazione che a noi permette di lavorare con sempre maggiore entusiasmo e gratificazione. All'interno della nostra clinica dentale vengono anche seguiti con particolare attenzione i bambini, che vengono curati divertendoli, senza far sentire loro assolutamente alcun dolore e facendo passare del tutto la paura del dentista. Oltre alle tecniche implantare, si eseguono ogni tipo di cura dontoiatrica a pazienti di qualsiasi età. I lavori sono sempre altamente estetici, confortevoli e tecnologici e sono atti a ricostruire completamente il sorriso, in modo tale che i pazienti che vengono da noi siano sempre felici, soddisfatti e immersi in un mondo di pesci. Grazie. Grazie.